Ciao ragazzi, questo video potrebbe essere una seconda lezione ipotetica per il corso di SketchUp all'interno della vostra classe quindi andiamo ad aprire il nostro programma ricordiamoci che all'inizio è obbligatorio cliccare un qualunque template consiglio di usare sempre misure metri centimetri o millimetri e non pollici per non confonderci anche se all'inizio non serve usare le misure mettiamo metri in base all'insegnante con cui fate lezione faremo dei disegni diversi ripassiamo lo zoom cliccando la rotellina centrale il cosiddetto orbit cliccando la rotellina centrale insieme al tasto shift il cosiddetto pan quindi trasliamo cliccando il tasto shift insieme alla rotellina o semplicemente ruotiamo cliccando solo la rotellina vedete che nel mio computer non ci sono adesso le icone perché in realtà si può lavorare usando i tasti ma questa è una modalità un po' avanzata non ci interessa vediamo come far ricomparire le barre degli strumenti se ci dovesse servire quindi andiamo in visualizza clicchiamo barri degli strumenti per iniziare uso un gioco di parole conviene usare la barra che si chiama per iniziare è semplice no? chiudiamo con questi strumenti abbiamo più di quello che ci serve per l'intero corso con questi veramente facciamo tutto quindi andiamo a spingere la nostra finestrella al suo posto poi se vi da fastidio lì ve la potete spostare quindi siccome usiamo i computer condivisi con altri compagni di scuola può succedere che sbadattamente qualcuno abbia chiuso la barra degli strumenti nella vostra postazione ok? ma ora sappiamo come rimetterla un attimo che non la vuole ammettere ok allora ricordiamoci iniziamo da sinistra seleziona seleziona permette di cliccare un oggetto presente sul nostro schermo o di fare una selezione a finestra ok? una volta che selezioniamo possiamo fare diverse operazioni d'accordo? però prima di lavorare non usiamo l'omino perché ha delle proprietà strane facciamo qualcosa di geometrico l'omino lo usiamo col tasto con lo strumento cancella poverino questo omino fa sempre una brutta fine perché? perché fondamentalmente serve per gli architetti per chi fa simulazioni di interni avere un omino a dimensione approssimativamente dell'umano medio ma noi che useremo SketchUp prevalentemente per fare geometria forme geometriche o comunque non siamo qui a fare architettura non ci serve preferiamo avere il nostro spazio libero con i nostri assi cartesiani blu, rosso e verde che ricordatevi su SketchUp non si chiamano XYZ ma si chiamano blu, rosso e verde questo è fatto per essere più semplice allora la gomma non può più cancellare nulla adesso ci serve usare il terzo strumento la matita la matita che crea le linee quindi noi cliccheremo e ci accorgeremo che il più delle volte comparirà una linea nera attenzione vi ho appena detto che gli assi si chiamano blu, rosso e verde guardate un po' non so se si veda abbastanza chiaramente ma compare la scritta la mia linea è diventata blu la mia linea adesso è diventata rossa la mia linea è diventata verde ora l'esercizio di oggi è usare solo lo strumento matita per creare un parallelepipedo ok posso farlo iniziando dalla faccia orizzontale guardate una funzione molto interessante questo programma come tanti altri si chiama CAD in inglese vuol dire disegno aiutato dal computer quindi ci aiuta per esempio a capire che in questo momento la linea che sto tracciando è esattamente in lunga quanto la prima che ho tracciato e che sia parallela ce lo fa vedere il fatto che sia verde perché anche la prima era verde questa no ora la linea è parallela adesso con questa con questo segmento tratteggiato che compare sappiamo anche che è della stessa lunghezza quindi io clicco e adesso se facessi una linea rossa casuale la linea rossa verrebbe tagliata dalla prima linea che ho fatto posso anche fare così e uso gli snap gli snap sono delle specie di calamite che ci permettono di centrare delle parti importanti delle nostre geometrie il pallino verde è un'estremità e ce lo scrive il pallino azzurro è la metà il quadrato rosso è ce lo scrive sul bordo lungo la linea quindi in base al simbolo noi abbiamo la certezza di essere precisi ok quando chiudiamo un poligono il programma crea anche la faccia del nostro poligono ok quindi abbiamo un rettangolo adesso noi vogliamo creare un parallelepipedo ci sono due modi uno facile ma richiederebbe un altro strumento questo che vi invito a fare oggi è un po' più complesso dopo vedremo la soluzione facile però vi voglio insegnare a usare gli strumenti uno per volta quindi clicchiamo da un qualunque di questi quattro vertici decidiamo una lunghezza arbitraria all'inizio del nostro spigolo asse blu per esempio abbiamo detto per forza per essere verticale deve essere asse blu e adesso usiamo la stessa funzione di prima che però ce la fa vedere solo se abbiamo vedete lui non lo sa a che cosa ci vogliamo agganciare quindi dovete imparare anche ad andare a tentativi io non so adesso perché per esempio non mi stia dando ora si è fissato con quel vertice non so perché non lo so ok ah perfetto alla fine era sembrava andassi chissà dove secondo me era un piccolo bug software non capivo non mi era mai successo vedete linea verde quindi parallela a quella che c'è giù è della stessa lunghezza ok io sto costruendo con calma senza fretta ragazzi quindi non solo mi serve la linea tratteggiata ma mi serve anche la linea verde il segmento verde ok attenzione ha qualcosa che non va non è normale questa sua vabbè però abbiamo comunque la verifica che il nostro parallelepipedo sia corretto adesso vediamo la versione la modalità più facile saltando questi due centrali andiamo a usare questo però prima cancelliamo ok vedete come cancella attenzione a non sbagliare se sbagliate ctrl z oppure se avete se preferite usare il mouse un po' più lungo modifica e facciamo qua ok ora io vado a cliccare sullo spingitira e ottengo da un rettangolo un parallelepipedo quindi la modalità ancora più facile sarebbe stata creare direttamente un rettangolo e usare questo ok però io vi volevo usare vi volevo insegnare il nostro strumento matita ora in questo secondo video abbiamo visto in modo molto lento molto facile come creare un parallelepipedo usando la matita vi potrei spiegare tanti altri comandi ma non vi voglio appesantire troppo intanto impariamo che se noi selezioniamo un un oggetto poi possiamo usare per esempio questi tre sposta ruota e scala funzionano solo sugli oggetti selezionati e anche con sposta abbiamo le nostre linee verde blu e rossa d'accordo impariamo a a usare gli assi va bene è molto importante ruota avremo i piani di rotazione provatele ok cioè lui si aggancia a una superficie presente d'accordo poi ci sono altre diciamo modalità un po' più avanzate ma ripeto ora non ve le voglio non vi voglio svelare troppi non voglio fare troppi spoiler va bene quindi per questa vostra seconda lezione oggi abbiamo visto abbastanza divertitevi a sperimentare tutto quello che volete senza senza porvi alcun limite buona buon proseguimento